Trascorrerete il Ferragosto nel Sagno? Sì, siamo qui qualche giorno con i nostri amici e vediamo appunto le bellezze che ci sono qua a Benevento. Benevento e la sua storia conquistano i turisti che hanno scelto il Sagno per trascorrere le festività di Ferragosto. Dalle mura a Longobardi all'area archeologica del Teatro Romano, le bellezze artistiche e culturali della città non deludono i visitatori che ai microfoni di 8 Channel si dicono affascinati dalla storia del territorio. Ho visto molto belle le mura a Longobardi, adesso stiamo per entrare nell'anfiteatro, è una città ricca di storia. E' molto bella anche per il paesaggio che c'è comunque tutto intorno, ci sono un sacco di colline, un sacco di verde, quindi c'è sia storia che natura. Abbiamo visto il centro storico e oggi insomma il giro anche in quest'altra parte che ci mancava. Ah bello, sembra anche tenuto bene. Ed i dati delle visite registrate in questi mesi al Teatro Romano sembrano confermare questo interesse per l'arte e la cultura del territorio sannita. Nonostante il lungo lockdown, il direttore Creta infatti parla di numeri più che soddisfacenti, soprattutto ad agosto. I numeri sono più che soddisfacenti. Non mi aspettavo che dopo emergenza, l'emergenza più stretta, più problematica del Covid, potessimo dal 2 giugno fare questi risultati. Il mese di giugno abbiamo perso in rapporto al 2019 qualche centinaia di visitatori, ma il mese di luglio abbiamo conservato e il mese di agosto stiamo aumentando. Nel 2019 avevamo fatto intorno ai 970, ieri stavamo a 1400. Io credo che supereremo abbondantemente i numeri dell'anno scorso per agosto. Io credo che supereremo abbondanti i numeri dell'anno scorso per agosto. Io credo che supereremo abbondanti i numeri dell'anno scorso per agosto.